Salve a tutti, sono con il bronze europeo Juniores Greta Poser, che oggi si è laureata campionessa italiana Juniores. Allora, come sei arrivata a questo risultato? Sei arrivata con tanto lavoro, impegno, con aiuto degli altri e tenaccia. Beh, è il tuo primo titolo italiano, cosa si prova a vincere? È bello finalmente essere davanti agli altri per la prima volta in Italia, è una bella sensazione. Ci racconti come hai trascorso il giorno prima di questa finale? È agitata, ho fatto il viaggio in Pugmino con le altre ragazze, è stato bene. Poi alla sera non sono riuscita a dormire, notte in bianco, però alla fine. Cosa consiglieresti a qualche ragazzino che si sta approcciando a questo sport? Di crederci, che volere potere e di non mollare mai. E che bisogna fare tanti sacrifici, no? Tanti, però ne vale la pena. Buona liceo della comunicazione e di rizzo in realtà. Bello, cosa che studi in questo liceo? L'ambiente, la materia principale è le scienze ambientali, usciamo in campo, facciamo studi sensibili e serbi, lo studiamo, no? Allora, come di consueto, usiamo a finire le nostre interviste con il nostro motto, e lo facciamo insieme, Italia Judo! Allora, come vi faccio insieme, Italia Judo!